Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovi vari pacchetti di miglioramento che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. Perché una ragazza risponde dopo giorni? Questo video sarà velocissimo perché sono molto incattivito da questa domanda, nel senso, una ragazza non può rispondere dopo giorni. Io posso capire qualunque cosa, ma anche la persona più occupata del mondo, anche Elon Musk, un nanosecondo, un ecto o eptosecondo, insomma una milionesima parte di secondo ce l'ha per rispondere in 24 ore. Tutti hanno 24 ore, tutti hanno le proprie cose da fare, se la persona è interessata rispondi. Se non ho trovato un secondo per risponderti in 24 ore, io personalmente la mando a quel paese, perché non è possibile che ci impieghi giorni per rispondermi. Anche se gli fosse caduto il telefono nella gola di un coccodrillo, comunque sia avrebbe fatto il cambio perché non può resistere senza Instagram, senza TikTok, quindi avrebbe cambiato la sim, eccetera, eccetera. O avrebbe trovato il modo di farsi via magari con altre social, quella, senza per forza una sim, un numero, eccetera. Se passano più di 24 ore, te lo assicuro, non voleva risponderti. L'ha visto, ma non lo sta facendo. Perché, l'ho spiegato in altri video, quali potrebbero essere i motivi, ma se non l'ha ancora fatto, mancanza di rispetto nei miei confronti, magari ho fatto io tutti gli errori del mondo, cioè in questo caso tu, voi o chi guarda questo video, in questo caso non pensate più a questa cosa e dimenticatevi che deve rispondere, dimenticatevi della persona perché non torna indietro. E se passano 24 ore sul serio e viene fuori dopo con una scusa e mi dice eh sì, perché devo fare questo o quest'altro, il mio comportamento cambia, non sarò più accomodante e la torcherò in senso metaforico, nel senso comincerò a essere totalmente diverso e a, non dico vendicarmi, però le farò pesare questa cosa e le dirò che questa cosa non si fa. Non vuol dire che comincerò a farlo anch'io e la tratterò come un capisci in faccia, ma si dovrà riguadagnare la mia fiducia. Fiducia o rispetto, insomma, avete capito? Perché dettagli non mi deve niente. Però in 24 ore, no. Magari ho sbagliato io, sicuramente, cioè voi, cioè l'uomo ha sbagliato, scrive la ragazza, avete capito? Però dai, non... Questo è quanto, vi ricordo come sempre che questo è in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari precorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.